Ciao a tutti, sono Beviloo Games e oggi continuiamo con The Sims 4 vita universitaria e andiamo avanti Però, cioè ci sono più persone secondo me, perché all'università dove sono io, cioè, è raro quando vedo tante persone Vedi qua, puoi ordinare il cibo, ecco, la cosa bella di qua che mi piace è che puoi ordinare il cibo, invece là non c'è sta cosa, oh Oddio, siamo in pessimi rapporti, mi sa che ne odiano tutti Noemi torna a casa Ti sei divertita, cioè, abbiamo risa e scherzato, abbiamo manomesso i gabinetti, cioè, a quelli poverini Oddio, quanto so stronza, vabbè Sì, è stato divertente, ok, però nel gioco assolutamente, perché nella realtà queste cose non le farei mai Ok, sono tutti seduti qua che studiano, bello Bella, altra chiacchiera di due Ok, gioca, si sta attenta a non far prendere fuoco qualcosa e buonanotte Bidi bibodi bibu Va bene, si sta divertendo, ok Ma quanto dura sto gioco, basta Ok, ha finito, bene Ah, ho fatto pure il robot pulitore, ma neanche me ne l'ho accorta io, guarda che l'ho fatta sta cosa Attiva robot pulitore No, vabbè, fammi vede sta cosa Ma quando è che l'ho fatto? No, non posso, scusami No, vabbè, raga, guarda, sta pulendo Aspetta, ferma, ferma, fammi vedere Ma cosa pulisce in aria, tanto per sapere Mendi, colloca, disattiva, metti nell'inventario Ma cosa pulisce in aria, robot pulitore? Allora, fammi leggere, aspetta Allora, il robot di servizio aiuta a mantenere pulita e impeccabile qualsiasi casa No, vabbè, ma che figata Niente, mettilo nell'inventario Ce ne avevo due e neanche me ne sono accorta Robot da festa, questo da festa Ah, no, perché è da festa questo Fammi vedere Attiva robot da festa edizione euro Ah, la musica No, vabbè Sì, io ho fatto sti robot Ascolta Ascolta la musica all'intro No, vabbè, ma che figata Regola il volume Metti massimo Cioè, vedete No, vabbè, che figata Attiva modalità festa No, vabbè, robot balla pure Ma che figata è Ok, spegni Disattiva il servizio del robot Com'è? No, aspetta, aspetta, aspetta Cos'è, devo fare? Altre scelte Ordina del cibo Perché posso ordinare del cibo? Stai scherzando Aspetta No, ma raga Ma che figata è? No Ma quando è che vendono sti robot? Ce lo voglio Lo voglio immediatamente No, eh Dov'è che Dov'è che lo vendono? Lo vado a comprare immediatamente Cioè, ma che figata è? No, vabbè Che altro può fare? Attiva la musica Ok, l'abbiamo già fatto Ordina del cibo L'abbiamo già fatto Vendi, ordina la bevanda Pure la bevanda Eh, vabbè Disattiva il robot Il servizio Va bene Mi sa che devo fare Per forza quello Ok Non mi metto Nell'inventario Prima che qualcuno Me lo frega Ok Questo pulitore L'abbiamo già visto Questo era da festa L'abbiamo già visto Questo è da lavoro Fai vedere questo da lavoro Dai, tira Fia fuori Che cosa fa questo del lavoro? Ma che cacchio stai fa? Io ti ho detto quello Attiva robot riparatore Ma tu mangia Perché me l'hai buttato per terra? Se c'è qualcosa da riparare Ma se non c'è niente da riparare Cosa deve riparare? Cosa deve riparare, poveri? Collega l'oggetto Robot Vendi Disattiva Ok, questo ripara solo E basta Cioè, praticamente Boh, prova a manomettere un gabinetto Per vedere che cosa succede Ovviamente non faccio andare nessuno Perché voglio vedere Che cacchio succede Manometti il gabinetto Vai Eeeh Per vedere se attivo il robot riparatore Cosa succede? Cioè, mi stai dicendo Che io ho fatto Questi robot No, vabbè Allora Robot riparatore Vediamo Se me lo ripara Attiva il robot riparatore Vediamo un po' Tu spostati E magari non riesci ad andare No, non mi ripara niente È perché non è rotto È solo manomesso Eeeh Si dovrebbe rompere qualcosa Per provarlo Però purtroppo Non posso rompere niente Sono questo L'avrei già fatto E vabbè Niente Lo proveremo Quando si romperà qualcosa Adesso il problema È che mi hanno messo il gabinetto E non l'ho mai fatto Ma io ci posso andare Anche se lo mi hanno messo io Cioè adesso mi ammazzo io Però vabbè Tanto vado a farmi la doccia A chi se ne frega Forse se ci vado Voi vediamo Ecco Così impari A fare i scherzi Fai la doccia Vediamo Me lo ripari Aspetta Eh infatti Me lo dovrebbe riparare No? Dovrebbe riparare Cioè se non funzioni Ma che cosa pulisci Se continua Adesso ci Metti nell'inventario Colloca Ma che è successo Lo colloco sulla postazione Lavoro Mi porta là Ma che cacchio Ripara sto robot Se non ripara niente Forse perché c'è la tipa davanti E non ci può andare Non lo so Eh senti Se ti togli dalle balle Ecco Grazie Mettiti qua Che magari Ecco Ma non lo vedi No Perché me lo stai riparando Uffa Uffa Sì adesso me l'ha riparato Non ripara niente Comunque Non mi ha riparato niente Vabbè Vediamo il robot pulitore Il robot pulitore Dovrebbe pulire Vediamo un po' se funziona Vai qui Disattiva il servizio del robot E lo metti di nuovo Nell'inventario Ma sei già pulito Cosa c'è a pulire ancora Ok No vabbè Che figata Niente ragazzi Io direi di finire qua Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram E ciao 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 Grazie a tutti